Prima corsa, 4 anni non vincitori di 2.000 Euro dal primo di novembre a reclamare per 10.000 Euro, 1.600 metri, 1 Terence F senza ferri, Marco Castaldo, 2 Twin Up BLG Giovanni Bechis, 3 Tosca Grip, Gustavo Matarazzo, 4 Trenacri a Ponte senza ferri anteriori, Filippo Monti, 5 Terzo Salore, Luca Crosetti, 6 Taipan e Rio senza ferri anteriori, Michele Bechis, 7 Tic Tac Rock, Carlotta D'Agostino, seconda fila 8 Tartasem senza ferri anteriori, Marco Montaldo, 9 The Hitch Grip, Enrico Colombino. Si ritraggono dalla Terence F e Twin Up BLG al pari di Tic Tac Rock. Twin Up BLG per il comando, al suo eterno, Trenacri a Ponte, intanto in errore, numero 3 Tosca Grif. Numero 3 Tosca Grif, squalificato. Taipan e Rio che sullo slancio passa al comando per completare il lancio in 13,4. In chiara evidenza Taipan e Rio per la seconda posizione, Trinacri a Ponte all'esterno di Twin Up BLG, così all'uscita dalla piegata con Taipan e Rio che continua al comando. Il quarto iniziale in 29,7, 16,3 per gli ultimi 200. Fandatura Taipan e Rio in seconda posizione, Twin Up BLG in terza, Trinacri a Ponte, poi Terzo la Salor, avanti a Terence F, 44,7 per i 600, 15 netti, 200 della retta, con Taipan e Rio che continua in avanti. Guida Taipan e Rio in seconda, Twin Up BLG in terza, sempre Trinacri a Ponte, in guarda sempre terzo la Salor, poi Terence F, 1, 0, 0, 8, gli 800, 16, 1, gli ultimi due, 31, 1, il quarto, le posizioni non cambiano con Taipan e Rio, sempre all'avanguardia, in seconda posizione, sempre Twin Up BLG il giro, in 15, 9, 15, 1, gli ultimi 200, sempre all'avanguardia Taipan e Rio, in seconda sempre Twin Up BLG in terza, sempre Trinacri a Ponte, così le posizioni lungo l'arco della piegata finale, i tre quarti di Miglio passati in 1,32, 14, 3, numero 1, Terence F, squalificato. La squalifica intanto per Terence F, completamento della curva, ingresso in dirittura, con Taipan e Rio sempre in evidenza, Taipan e Rio arriva ai 200 finali in 1,46 netti, 15, 8 per gli ultimi 2, allunga Taipan e Rio, passa in seconda posizione Trinacri a Ponte, nel finale Taipan e Rio, avanti a Trinacri a Ponte, poi Tatasem, terzo Lassalor e Tic Tac Rock, 14, 8 gli ultimi due, 36 il quarto concursivo, 2, 0, 0, 8, tempo al chilometro del vincitore, 1,15, 5, 6 Taipan e Rio, 4 Trinacri a Ponte, 8 Tatasem, il podio della prima corsa.